è stato inaugurato oggi lab vaccinale più grande della calabria dentro l'ente fiera di catanzaro si parte con cinque linee vaccinali attraverso cui sarà possibile inoculare 500 dosi al giorno al meno questo è il dato di partenza domani si inizierà con gli over 70 che riceveranno il vaccino astrazeneca in un momento successivo ci potrebbe essere il raddoppio delle linee vaccinali portando la 10 quindi il contestuale raddoppio delle dosi somministrate il delegato al covide della regione calabria il direttore generale della protezione civile fortunato varone ha poi parlato in termini più ampi dell'andamento della campagna vaccinale annunciando che con l'attivazione degli altri hub vaccinali sono attesi anche quelli di corigliano rossano e di siderno entro le prossime due settimane la calabria potrebbe arrivare a 20 mila vaccini al giorno